Mi chiamo Alfredo Sunder, sono laureato in scienze agrarie, mi occupo di agricoltura dal 1985, ho lavorato per un po' di anni con un commerciante di prodotti agricoli, ho fatto anche mediatore di cereali eccetera. Adesso invece mi occupo di agricoltura, di avviamento di aziende agricole e insegno, faccio dei corsi di formazione professionale, mi occupo anche di orti sociali e orti anche professionali. Il problema è che purtroppo i prodotti qui in Italia, ma così diciamo il problema di tutto il mondo, i prezzi sono molto bassi, volutamente io credo, perché altrimenti se non si riescono a tenere i prezzi bassi dei prodotti la gente sarebbe costretta a spendere molto di più. E quindi naturalmente poi ci sono anche tutti i problemi delle filiere, delle filiere lunghe, di diversi passaggi, l'agricoltore ovviamente è l'ultima ruota del carro, tutto quello che è alimentare. Il problema, uno dei grossi problemi dell'agricoltura è proprio il fatto che ci sono questi prezzi molto bassi. Io tante volte dico anche degli agricoltori, di quelli nostri agricoltori che lavorano qui da noi, che le loro ore lavorative non vengono retribuite, quanto dovrebbero essere retribuite ore di magari professionisti o altre persone che fanno altri lavori. Molte volte un agricoltore lavora per 2-3 Euro sia qui in Italia che ovviamente anche in Mali, perché anche io parlando con Nomaru ho sentito proprio quali erano i suoi problemi. E poi il fatto che queste merci vengono considerate proprio commodities, quindi addirittura vengono trattate alla borsa per esempio di Chicago, alla borsa mondiale come con dei future eccetera, quindi vengono comprate, spostate, movimentate eccetera, come se fossero di qualsiasi prodotto non alimentare. Il problema è che gli alimenti sono fondamentali, quindi non si possono spostare così come delle qualsiasi merci, stoccare eccetera. Mi viene in mente una tabella, adesso vado così un po' a memoria, una famiglia di 4 persone negli anni 60 più o meno spendeva circa il 50% del proprio reddito di quello che guadagnava per i beni alimentari. Oggi invece si parla di un 10, 15, massimo 20% di spesa per i prodotti alimentari, quindi rimane un 80% da destinare ad altri beni, volutuari o anche altre cose. E quindi sicuramente questo è un'altra faccia della medaglia. L'agricoltore purtroppo è l'unico che non fa il prezzo, paradossalmente, nel senso che è chi compra che fa il prezzo. Addirittura molte volte parlavo proprio in questi giorni con un produttore di kiwi che mi diceva qui delle nostre zone, della zona di Viverone, che ritirano la frutta e non gli dicono quanto è il prezzo e saprà poi il prezzo tra qualche mese, probabilmente saprà qual è stato il prezzo e riceverà i soldi tra qualche mese. Quindi a volte l'agricoltore rimane completamente impotente. Guardando così i prezzi che vengono fatti, soprattutto dell'ortofrutta, dell'ortomercato, ma anche degli altri prodotti alimentari, ci sono dei listini a livello nazionale e si parla di pochi centesimi, senza andare lontano già solo qui a queste estate. Nella zona di Borgodale le pesche hanno avuto un crollo del prezzo, si parlava di una ventina, 20-30 centesimi al chilo e forse neanche. Molti agricoltori erano disperati perché il costo di produzione superava il ricavo della vendita. Addirittura per esempio le patate ha toccato in questi mesi estivi il prezzo a livello nazionale, i 9 centesimi e quindi è una cosa incredibile pensare di raccogliere un chilo di patate anche pur utilizzando delle macchine e riuscire a stare dentro a questi guadagni. Il problema è che le merci cosa succede? Che molte volte le merci viaggiano e per esempio quando è il momento di raccogliere arriva il mediatore o arriva l'incaricato degli acquisti che dice guarda il prezzo è questo, se ti va te lo ritiriamo, se no è arrivata una nave in porto a Genova piuttosto che in un altro porto che arriva ad esempio dall'estero con un prezzo molto più basso. Quindi o ce lo vendi a quel prezzo lì altrimenti non lo riteriamo. È una logica paradossale e l'agricoltura forse è proprio un settore di quelli che ha proprio pagato in maniera forte proprio questa logica. Perché? Perché si è pensato di equiparare le merci, i prodotti alimentari come a dei prodotti qualsiasi che vengono trattati nelle borse e quindi sono sottoposti a trattative, a prezzi. C'è chi compra quando il momento in cui il prezzo più basso compra, rivende quando il prezzo sale, si fanno delle vere e proprie speculazioni. E' ovvio che l'agricoltore ovviamente per poter stare dentro e poter portare a casa almeno le spese e quello che riesce per sopravvivere, diciamo così, è costretto a dover risparmiare su tutto. Ovviamente l'incidenza in agricoltura ancora abbastanza importante, l'incidenza dei costi è la mano d'opera e quindi ovviamente si cerca di risparmiare tantissimo sulla mano d'opera. Ecco perché ci sono questi movimenti di persone che vanno a lavorare, lavorano nei campi eccetera a dei prezzi paradossali, nel senso incredibili che molte volte un italiano non riuscirebbe neanche a concepire. Anche perché vendendo a 20, 10, 15 centesimi un chilo di frutta o di ortaggi non è possibile pensare di sopravvivere se non si abbassano i costi fino il più possibile. E quindi sulla mano d'opera ovviamente è la prima a pagare il prezzo. Adesso diciamo così il grano a livello, il prezzo del grano e del mais si aggirano intorno ai 18, 20, dai 15 ai 20 per il mais euro al quintale e per il riso per esempio andiamo intorno ai 50 euro al quintale, quindi vuol dire 50 centesimi al chilo, facendo il conto. Diciamo così, i prezzi sono anche, forse su quello che riguarda i cereali eccetera, mais e riso eccetera, sono convenienti in quanto si utilizzano, sono dei prodotti che si utilizzano le macchine, quindi abbondantemente meccanizzati, si usano erbicidi, si usano un solo agricoltore riesce a gestire svariati ettari di terreno. Per chi invece lavora come credo, come faceva Omaru, lavora del proprio lavoro e con una tecnologia magari non avanzata, proprio perché le macchine costano tantissimo. Dovendo lavorare a mano, se uno pensa che a 19 centesimi un chilo di grano è una cosa assurda e per cui è impossibile riuscire a starci dentro e io credo che un motivo di questo esodo anche dall'Africa di questi giovani, che sicuramente quelli che abbiamo avuto modo di conoscere volenterosi, lavoratori, proprio perché non riescono a sopravvivere con il prodotto della loro campagna. L'altro paradosso è che la nostra agricoltura, tutto il sistema dell'agricoltura, quindi diciamo così anche dell'agroindustria invece viene sovvenzionata. Tante volte, è incredibile, quando vado al supermercato vedo per esempio un panino, una bottiglietta di acqua minerale a 30 centesimi la bottiglia da un litro, da un litro e mezzo e mi chiedo come possa costare. D'accordo l'acqua non costa niente perché è una fonte, è un bene che si trova dappertutto, ma io penso una bottiglia di plastica, quindi la plastica, il petrolio, il camion, il trasporto, la lavorazione, la ditta che la produce, l'intermediario, il supermercato che la vende, mi chiedo come possa essere possibile pagare così poco un bene così che poi, dire la verità, il bene in sé non vale poco, nel senso dove c'è abbondanza di acqua. E così per i prodotti alimentari. Dei panini oggi proprio guardavo fuori da un negozio qui che vendevano delle focaccine, queste cose qui, a un euro. Io penso un euro che cosa puoi fare con un euro, se penso al grano che bisogna raccogliere, trebbiarlo, lavorarlo, fare farina, impastarlo, deve guadagnare quello che lo compra, deve guadagnare quello che lo vende, come si fa a stare con dei prezzi così bassi. Ed è un paradosso, perché è ovvio che se i prezzi fossero così bassi, credo che la gente non riuscirebbe, soprattutto in questi momenti, non riuscirebbe a sopravvivere. Tante volte, devo anche dire questo, tante volte sento parlare la gente e dice ma gli agricoltori stanno bene perché ricevono un sacco di contributi. effettivamente i contributi, una buona parte del bilancio della comunità europea è dovuto a questi contributi, che stanno ormai sempre più diminuendo. Il problema è che comunque non sempre sono sufficienti e non sempre poi tutti gli agricoltori riescono a raggiungere, a utilizzare questi contributi e mai come adesso sta diventando sempre anche un po' più difficile. Quella occidentale, diciamo così moderna, è fortemente energivora, consuma una quantità enorme di energia per produrre degli alimenti che poi molte volte vengono persino scartati e vengono anche buttati e questo è l'altro paradosso dell'agricoltura. Il fatto di produrre già, gli scarti avvengono già a livello di raccolta, io penso, non so, nelle aziende vivaistiche eccetera. C'è già uno scarto al momento della raccolta perché il prodotto che non è bello, una volta veniva utilizzato, veniva utilizzato tutto quanto, adesso se non è più che perfetto, non è più che bello, viene buttato, viene scartato. Quindi dopodiché questo prodotto va attraverso diversi intermediari, raggiunge poi gli scaffali dei supermercati, hanno una certa durata e poi dopodiché vengono di nuovo buttati. Quindi per 10 kg i prodotti ne vengono scartati quasi la metà. È un altro paradosso che non sta in piedi, insomma. E questi sono tutti i vari paradossi dell'agricoltura moderna e del sistema moderno. Ora è l'ultima ruota del caro perché non è lui più a fare il prezzo e quindi questo lo vedo anche qui a livello locale, i prezzi fanno le grandi piattaforme della grande distribuzione, i quali ovviamente devono, con la legge del profitto del mercato, cercare di guadagnare il più possibile e quindi ovviamente meno pagano il prodotto e più caro lo vendono, ovviamente maggiore ricavo e maggiore il guadagno. Ma tutto questo va a detrimento della sopravvivenza e della vita. Io credo che sia la parte più importante. Fino adesso siamo stati, diciamo così, attori passivi, anche perché bisogna dire che si sapeva anche relativamente poco. Adesso stanno emergendo tante informazioni, si viene a sapere tantissimo di quello che sta succedendo nel mondo. Sicuramente come dobbiamo diventare attori attivi e quindi in che maniera possiamo rispondere? Naturalmente quello di possibilmente di acquistare direttamente dagli agricoltori, evitando di saltare tutti i vari passaggi, le intermediazioni, ma questo purtroppo non è sempre possibile perché non è che possiamo reperire ad esempio dei beni come la farina eccetera direttamente a volte dall'agricoltore. Oppure affidarci a queste filiere, ci sono delle filiere che possono essere etiche, sociali eccetera che seguono il percorso del prodotto, anche il prodotto che viene dall'estero perché l'Italia ovviamente non può pretendere di produrre il caffè, le banane e altre cose, quindi si deve rivolgere ai paesi che le producono, ma cercando di seguire una filiera che sia più possibilmente etica, che aiuti soprattutto i contadini, che non vengano stroncati dal mercato e dal movimento delle merci e quindi che il loro prodotto diventi solo qualcosa da contrattare e naturalmente da abbassare poi il suo valore, perché meno costa e più naturalmente l'azienda che compra guadagna. C'è proprio un agricoltore di costato che mi diceva sempre, sai le carote, io produco le carote e tante volte vengono qui in azienda e mi dicono dammi un chilo di carote, dammi due chili di carote eccetera e io dico sempre guarda le carote sono 3 euro al chilo e tutti dicono come supermercato costano 1 euro, 80 centesimi eccetera, allora lui mi diceva sempre questo, va bene guarda non me le paghi, là c'è il campo e le vai a raccogliere, raccogli quello che vuoi, vieni qui e le pesi e le paghi quanto le hai pagate al supermercato e dice tutte le volte raccogliere un chilo di carote per terra, tirarne su una per una, molte volte ne viene una piccola, una po' più grossa, una bitorzoluta quindi la devi scartare eccetera, tutti si rendevano conto che cosa vuol dire raccogliere un chilo di carote e pagare 70-80 centesimi e questa diciamo la maniera migliore per capire che cosa vuol dire il lavoro in agricoltura e riconoscerlo come tale. Tieni conto il prezzo delle carote quest'estate era intorno ai 17 centesimi al chilo. Grazie a tutti!